Quanto guadagnano gli svizzeri? Mediamente 6.502 franchi lordi al mese, che al cambio attuale equivalgono a poco meno di 5.500 euro al mese. Lo rivela l'Ufficio federale di statistica della Confederazione Elvetica, che ha diffuso i dati relativi agli stipendi del 2016. Il 10% dei dipendenti meno pagato prende circa 4.300 franchi al mese, il 10% meglio pagato prende oltre 11.400 franchi al mese. Pagano bene assicurazioni, società informatiche, banche e industrie farmaceutiche, mentre gli stipendi sono più moderati, ma comunque alti in proporzione all'Italia, nell'industria tessile, nel commercio e nel settore della ristorazione. Esiste una marcata differenza di salario tra uomini e donne, che tuttavia si sta assottigliando e si è attestata nel 2016 al 12%, una percentuale che aumenta all'aumentare della responsabilità In altre parole, proporzionalmente, una manager donna guadagna molto meno rispetto al corrispettivo uomo. Guadagnano infine più di svizzeri e gli stranieri, poco più di 6.800 franchi al mese contro poco meno di 5.900 franchi al mese. Un trend che tuttavia si inverte sulle posizioni lavorative più elevate. Un manager svizzero guadagna poco più di 10.000 franchi al mese, stesso manager straniero 12.247 franchi. Grazie! A presto. A presto. Ok. Grazie a tutti